Ben trovati da Tg della mobilità. Al via il cantiere al Colosseo per completare lo snodo tra metro B e metro C. Da domani fino al 4 giugno la tratta Castro operatorio Laurentina chiude alle 21 e il servizio sarà sostituito da navette bus. Nei giorni 24, 25 e 30 aprile e il primo maggio la metro B sarà attiva sull'intera linea. In quattro fine settimana del mese di maggio sulla stessa tratta non si effettuerà il servizio della metro B per l'intera giornata. Il cantiere terminerà il 4 giugno. I dettagli sul sito romamobilità.it. A San Pietro oggi il pellegrinaggio degli adolescenti. I giovani per l'incontro con il Papa sono arrivati anche con i pullman. L'evento inizia alle 12 e terminerà alle 19 e 30. Poi inizierà la veglia di preghiera. Dettagli e approfondimenti sul sito romamobilità.it.